In un momento in cui la digitalizzazione e la globalizzazione sono sempre più importanti, come fanno le fiere che offrono lavoro concreto a essere competitive sul mercato, anche mondiale? In un mondo in cui la digitalizzazione e la globalizzazione sono così presenti ovunque, può essere una benedizione per noi in termini di sviluppo. È un tema che però va affrontato anche da un punto di vista diverso. Noi lavoriamo in settori fieristici in cui si presentano nuovi prodotti anche in questo settore. Vi faccio un esempio, la scorsa settimana a Nuremberg si è tenuta la più grande fiera mondiale sulla cyber security. Quindi se non ci fosse la digitalizzazione non ci sarebbero questi nuovi prodotti e noi lavoriamo in questo settore. Come riescono le fiere europee a fare sinergia, rete, insieme, ancora per aumentare la competitività? È un po' strana la nostra realtà. Da un lato all'interno dell'Europa noi siamo concorrenti, dall'altro in paesi terzi e all'estero ci sono già forme di collaborazione molto estese e possiamo collaborare anche in progetti futuri. Noi per esempio abbiamo delle collaborazioni in India, la nostra associazione tedesca, ma speriamo di avere anche collaborazioni con altri colleghi di altri paesi, soprattutto con l'Italia.